Cosa è da sopra? Si stanno ancora le mani, speriamo che questo giro, oltre da noi, facciamo una cadena. In ultimo, sempre il suo sfidante, Marco Roby. Mancano 20 secondi alla partenza, lo sbandonatore si sta facendo avanti. Terza e ultima semifinale di oggi. 10 secondi della paratena. Ok, no. Siamo arrivati. 10, 9, 8, 7, 7, 4, 3. Pagetina. Hanno in prima, per la 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 prima e per il quinto, il tra l'abio, con l'altro lato, l'esterno Lenz, E' un'altra cosa. ... 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Tra westorni. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.